Linea 039 Bene, va a Mondione Prossima fermata Ho preso una mappa Anche questo è 39, funziona E' bloccato, prossima fermata Questo atomo lo fa scorrebole Via dell'acqua 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 La vettura 997 Questa funziona, pratica Questa è il VECO Il VECO in car Vecco al sito 9977 Questa è una vettura Il VECO Vecco al sito Questo è carino Ma però questo è in audio Questo è il VECO Prossima fermata Prossima fermata Montevacchetta Labaro E qui sento il volume Mai salva Montevacchetta 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 Vestima fermata Vaglio indietro Prossima fermata Questa vettura è molto figa Prossima fermata Prossima fermata Montevacchetta Col campionino Prossima fermata Prossima fermata Montevacchetta Po ku 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 Questa è un computer DPL da Vehicle City Sì, è un computer di Pioce Nonna porta al spirale Proxima fermata, Mastro Gabriello Quartaluni Mastro Gabrielli Mastro Gabrielli che mattina d'arco sentito il numero 039 destinazione dal bambino questo è come del link in carmobie invece sto a prenderlo il marzo è una fermata il numero 039 Questa è la seconda gorgata, mi viene di 30 alla fine è corsa questo non è il 4 ma questo è il 0 ma questo dovrebbe essere funzionato come per esempio il 040 giovane anziana potrebbe essere la linea 226 prossima formata bozzoschio mammo il Dione ecco ma lo so no sbagliato no sbagliato finta finta